Prime immagini anche per Secondo Tempo, opera prima del cineasta Fabio Bastianello, allievo di Ermano Olmi. La pellicola, nelle sale da marzo, racconta i mille volti della violenza negli stadi, la psicologia della curve, la sua logica sociale e gerarchica. Tutte le vicende che vengono raccontate nel film, che vengono raccontate dai nostri attori, sono in realtà un riassunto di aneddoti, di storie, di ultraveri. In realtà loro sono una grande famiglia, nel bene o nel male, e siamo andati a sviluppare quello che è l'etimologia della parola ultra, che è essere borderline, essere e fare tutto in maniera esagerata. Quindi loro amano tantissimo e odiano anche altrettanto. Diciamo che è una caratteristica di una tipologia di persone, più che un'aggregazione di un gruppo. Grazie a tutti.